buongiorno a tutti qualche anno fa ricorderete tutti il caso suarez io dal mio canale e ci sono ancora i video non li ho tolti dicevo che dalle mie informazioni suarez non sarebbe arrivato alla juventus perché c'erano dei problemi io non avevo chiaramente riferimenti specifici però mi era stato detto guarda che suarez da quello che risulta noi quelli che mi hanno informato non arriverà la juventus tutti parlavano di suarez già fatto fatto qui fatto la perché il passaporto adesso fa l'esame così cioè tutta una serie di scoperto il bubone sono stato preso in giro ma come si permette questo paio di dire cosa ne sa lui che suarez non viene la juve suarez non è venuta la juve giusto non è venuta la juve altro ieri io ho fatto un video dove ho detto che secondo me sarà difficile non detto che non arriverà sarà difficile far arrivare coppina sulla juve difficile è un qualcosa che ti dà l'idea di una situazione che non è molto così lineare semplice no giusto perché perché se fosse così la juventus ma dall'atalanta l'atalanta dice io voglio 60 milioni la juventus di da 60 milioni ciao a tutti state bene ci vediamo quando volete no perfetto invece non è così non è così perché anche se la juventus pare abbia offerto a me non risulta però io mi riferisco quello che sento raccontare un po un po in giro abbia offerto 55 milioni l'atalanta non ha dato risposta positiva quindi oggi e siamo al 9 di agosto dopo che ieri alcune persone hanno detto che io ho sparato una cazzata dicendo che difficilmente arriverà la juve come se fosse già della juve coppina oggi 9 agosto coppina non è un giocatore della juventus ma vi dirò di più vi dirò di più non so se voi lo sapete ma c'è un regolamento della procura un regolamento federale della fgc particolarmente si che è il numero articolo 16 comma 5 che proibisce di contattare giocatori sotto contratto prima degli ultimi sei mesi antecedente la data di scadenza del contratto stesso siccome coop manners ha un contratto che gli scade fra due anni o tre non lo so comunque non sicuramente non gli scade a fine 2025 la juventus rischia un'inchiesta federale lo sapete no questo la juventus rischia un'inchiesta federale se ovviamente l'atalanta riesce a dimostrare che il giocatore è stato contattato dalla juventus e ha un accordo privato io non credo che giuntoli sia così sproveduto da avere un accordo scritto o che l'entourage di teon comp manners sia così sproveduto da avere un accordo scritto che in qualche maniera andrebbe ad inficiare tutta l'operazione e a mettere nei guai sia il giocatore che la juventus però le dichiarazioni di gasperini o inquisissi gasperini perché dice cose che non hanno senso della serie il giocatore non vuole più allenarsi e vuole andare alla juve 15 se la inventate gasperini giusto se la inventate gasperini perfetto ma se il giocatore è vero che non si allena più e di fatti ha presentato il certificato medico ok e vuole andare alla juve non è che una mattina io mi sveglio e dico voglio diventare direttore sportivo della juventus no e quindi non so cioè la juventus era bello se man spontanea vuole diventare direttore sportivo va bene no se io devo avere devo avere una proposta lavorativa della juventus per poter avere una chance di diventare direttore sportivo della juventus capite l'esempio cioè quindi se comp manners ha rivelato a gasperini a meno che gasperini si sia basato sulle indiscrezioni giornalistiche allora mi deluderebbe molto perché signori giornalisti ne sparano una tutti i giorni dicono tutto il contrario di tutto faccio l'esempio todiboh che lo davano per fatto che io stavo lì in silenzio a non parlarne neanche a parte che non lo conosco pare che adesso si è saltato tutto con todiboh e l'avevano data per fatta cioè quindi attenzione a dare per fatte le cose io nel mio piccolo nel mio piccolissimo no ho detto attenzione perché secondo me sarà difficile se non addirittura non arriverà coppina sarà juventus è bastata la dichiarazione di gasperini bene per farmi perculare da gente incompetente e ignorante e in malafede oggi è il 9 di agosto cop manners non è un giocatore della juve l'atalanta è incazzata come una iena e le iene quando si incazzano fidatevi si incazzano veramente perché sono gli animali non so se lo sapete a livello teologico sono stati compiti degli studi è uno perché di gente brava di gente buona ce n'è poca perché quando ci incazziamo siamo tutti degli stronzi io per primo ma molti altri anni cioè quando ci incazziamo siamo peggio delle iene anzi e chiedo scusa alle iene e a france deval che le ha studiate però quando dico che quando dico che la juventus corre a rischi lo dico per un paio di motivi primo perché se questa cosa è veramente così conclamata la juventus viola il regolamento quello che vi ho appena detto no ok e poi perché è la juve se lo fa il napoli il milan l'inter la lazio la roma passa tutto in cavalleria ma sì va bene ma si sa che i giocatori prendono accordi il confini come si chiama i procuratori prendono accordi infatti l'unica possibilità di uscita è che la juventus dovesse capitare che ci sia un inchiesto federale che non vedono l'ora non vedono in procura federale si grattano gli zebedei tutto il giorno non cazzo da fare perché non guardano le altre squadre appena la juventus fa qualcosa è un peto si scaccola il naso e oppure si mette a posto un periodo dei baffi scatta l'inchiesta federale quindi se dovesse scattare l'inchiesta federale qual è la via d'uscita perché vi voglio anche mi sono documentato no qual è la via d'uscita per la juventus e per l'atalanta la juventus dichiarerà in maniera molto chiara molto netta molto che lei non ha nessun tipo di accordo con coop manners ma ha un pur parler con i procuratori di coop manners con i procuratori puoi parlare 365 giorni all'anno senza problemi so che è una cagata questa qui ma è un regolamento non l'ho fatto io della serie è come se io dicessi a un mio amico ascolta mi dici mi dici per piacere puoi dire a tuo fratello se no però io non ho parlato con tuo fratello ho parlato con te cioè capite è un tramite no è un mezzo per per cui se è ovvio che sarà così la juventus ha parlato con l'entourage di coop manners l'entourage di coop manners ha detto a coop manners guarda che ti danno 4 milioni e mezzo e guarda che ti vuole la juve molto bene ecco perché coop manners ha detto probabilmente spero che sia vero a ventura gasperini che venturini a gasperini un mio amico a gasperini voglio andare alla juventus attenzione però ve lo ribadisco perché l'atalanta che si sta già appigliando e quello che vi avevo detto ieri io che era una mia diciamo idea si è verificato perché ieri sera un giornalista del giorno in una trasmissione televisiva non ricordo il nome chiedo scusa ma comunque ha detto che l'atalanta farà delle informative in inghilterra per vedere se c'è qualche squadra di premier che lo vuole io ve avevo detto che non è facile che coop manners verrà la juve oggi il 9 agosto e quelli che lo davano già alla juve ieri lotto hanno già il cerino in mano si attaccano già a quella cosa che hanno in mezzo alle gambe e vi dico che non arriverà oggi non arriverà domani coop manners è una cosa che non non è così semplice da risolvere perché quando fa incazzare l'atalanta o quando fa incazzare una squadra perché l'atalanta è incazzata non è così semplice portarli via un giocatore ha appena perso scamacca e scalvini prima dell'europeo figuriamoci adesso ha preso le teghi ma io immagino che l'atalanta vorrebbe giocare con coop manners ma con la dichiarazione che ha fatto e il certificato medico coop manners non giocherà la supercoppa europea anche quelli che dicono ma la juventus non potrà averlo fino alla supercoppa ma se non gioca non è la condizione sine qua non la supercoppa la condizione sine qua non è se l'atalanta se la mette via come si dice in gergo e dice vabbè dai tanto questo qui non vuole più stare da noi tenere uno contro voglia non ha senso se lo tiriamo in tribuna io roviniamo non lo vuole più nessuno l'anno prossimo ce lo chiedono ce lo comprano a 10 euro anziché 60 milioni diamo lo stacazzo di juve a 55 milioni parlo per bocca di atalanta è comunque 9 agosto 9 agosto 8 di mattina circa quando registro non so che ore sono adesso quando è online e al comment non è un giocatore della juventus e non è neanche in direttore d'arrivo vi dirò questo perché perché l'atalanta sta facendo muro poi se giuntoli e per cassi trovano la quadra l'ho detto ribadisco e lo ripeto non voglio più ripetermi io sono lo juventino più felice del mondo perché sono convinto che con compagnia aggiunto ad aglas luiz e a turam forse non altro perché non così sono abbastanza tranquillo che non vedo in campo locatelli mi eretti la juventus sicuramente avrà un valore aggiunto poi se lo già lotterà per lo scudetto in champions league mondiale per club dovrete voi è un altro paio di maniche perché lì sarà il campo perché i giocatori quando arrivano sono tutti belli sono tutti bravi tutti vogliono da me tutti lo dicono lo dicono quelli del mina quelli della napoli quelli della roma quelli della juve quelli della razza quelle del torino cioè tutti sono venuto qui per vincere sono venuto qui per qua per qui per super super giù è il campo è il campo che dà le risposte non le conferenze stampa o le chiacchiere dei giornalisti o chiaro chiacchiere che facciamo noi youtuber è il campo che dà le risposte che il mio è il mio punto di riferimento e penso che è per quello che le mie analisi e le mie pagelle hanno tanti visual perché io valuto le prestazioni dei giocatori non mi interessa se si chiamano douglas luiz se si chiamano sidan se si chiamano del piero magari avessi potuto fare lo youtuber quando appunto c'erano di sidane del piero ne avrei avuto da dire di belle e non solo di belle se sull'uno se che sull'altro per cui signori che dire speriamo che chi ne è tutta la baradana della procura federale stia stia buona e soprattutto che l'atalanta ci passi sopra penso che non succederà nulla perché chiaramente come ho detto prima è un accordo che la juve ha coi procuratori con l'entourage di copmail non penso che siano così fuori di testa giuntoli e compagni di avere un accordo per un preaccordo firmato con il giocatore la stessa cosa è successa con tiago motta no che nessuno dava per certo l'arrivo di tiago motta la juve proprio perché non c'era un accordo scritto era un accordo verbale sulla parola e io posso chiamare il cop man a tutti i giorni come stai c'è il sole come bergande hura è meglio di bergande huta com'è poi chiaro ti piacerebbe venire la juve sì benissimo bene non ti preoccupare che faremo in modo di farti venire questo non è un accordo scritto è un accordo verbale io posso parlare quando voglio con chi voglio e dove voglio è chiaro che però se lui vuole venire la juventus l'accordo è andato oltre con il suo entourage questo è quanto quindi attenzione alla procura federale ciao ragazzi buona giornata a tutti